telefonino acceso risate di tutti e poco dopo finisce in rete questo questo video che avete visto insomma è inutile definirlo che cosa è successo che ci sono state reazioni da tutte le parti la procura anzitutto la procura di velletri ha aperto un'indagine per un caso simile delle ultime ore in questo caso uno studente dice professore ti faccio sciogliere in mezzo all'acido il ministro dell'istruzione la ministra dell'istruzione valeria fedeli ha detto invece questi ragazzi vanno sospesi e sanzionati non dovrebbero essere probabilmente ammessi agli scrutini e lo stesso preside ha fatto capire che probabilmente si andrà in questa direzione mentre quasi ironicamente anzi l'associazione nazionale presidi ha detto prepareremo i docenti con un corso di sopravvivenza ecco questa ironia naturalmente però poi dicono bisogna prepararci perché i ragazzi insomma per affrontare ragazzi come questo che avete appena visto quindi che usano i telefonini che fanno delle opere delle azioni quasi teatrali bisogna essere preparati ci vuole un corso di aggiornamento anche per affrontare ragazzi così questo nel mondo della scuola dove sta succedendo di tutto ve lo stiamo raccontando da un po di mesi a questa parte sempre nel mondo della scuola arriva quest'altro caso insomma che sta facendo anche questo molto discutere 54 posti di insegnante di scuola elementare ad agrigento occupati da 54 insegnanti siciliani trasferiti da altre parti d'italia tutti beneficiari della legge 104 che è una legge comunque sacrosanta importantissimo qui c'è barbara nevischi che abbiamo conosciuto qualche giorno fa alla vita in diretta e lei usufruisce la 104 perché ha un bambino che ha dei problemi serissimi e quindi per questo l'abbiamo invitata Barbara oltre per ricordare il caso di Manuel ma perché la legge 104 non va buttata via è una legge molto importante però poi ci sono le storture tre filetti rosario tre filetti ben trovato che la vita in diretta Gianluca timpone grazie che ha da dirci alcuni dettagli della legge 104 che non sono solo dei giorni ma ci sono altri benefici però partiamo da questo caso siciliano 54 trasferiti 54 leggi 104 vediamo la nostra indagine doveva servire da monito per sistemare un po le cose ma sembra che tutto sia caduto nel nulla inchieste arresti e processi non hanno cambiato nulla gli investigatori esaminano le pratiche degli ultimi insegnanti trasferiti ad agrigento tutti hanno dichiarato di avere un handicap o un parente di cui occuparsi dell'anno scolastico in corso il 2017 2018 ha fatto registrare il 100% dei trasferiti nell'ambito della scuola primaria con la 104 cioè su 54 trasferiti 54 sono titolari di 104 sulle sedi a rotelle o addirittura in barella ecco come si presentavano i finti invalidi scoperti dalla polizia un'inchiesta lunga a 4 anni 300 indagati gli ultimi 3 mesi fa le prime condanne sono arrivate a marzo per chi ha patteggiato o scelto il rito abbreviato per gli altri il processo deve ancora cominciare i principali imputati oggi si nascondono secondo l'accusa c'è un sistema ben organizzato per truffare lo stato chi curava le pratiche ha accumulato una fortuna questa e una delle ville sequestrate durante le indagini abbiamo da una parte i medici che non fanno i medici dall'altra i cosiddetti falsi invalidi e nel mezzo troviamo i procacciatori di falsi invalidi una legge giusta profanata dagli scandali dal sud al nord del paese l'ultimo caso clamoroso a Trento i furbetti della 104 abusano dei diritti sacrosanti dei disabili e delle loro famiglie quest'uomo ha una figlia ipovedente gli avevano proposto di pagare per accedere alla 104 a lei spettava per sua figlia e non l'ha avuto quando vedeva che gli altri la ottenevano come si sentiva è chiaro che non si sente tanto bene lei pur sapendo che c'era quella seconda opportunità di pagare per avere insomma non è giurato non c'è andato per legge o non è giurato ma perché lei crede nel rispetto della legge immagino prima che gli appassi la legge prima di ogni cosa Barbara Nevischi la sua esperienza qual è? lei usufruisce della 104 ma che cosa ha sentito? no, mi è successo comunque di incontrare persone che raccontavano appunto di queste problematiche che venivano offerti comunque dai medici la possibilità di richiederle 104 o se la volevi perché ti aspettava comunque ti chiedevano una percentuale per farti fare tutte le pratiche abbastanza sotto shock quando l'ho sentita raccontare io personalmente ho avuto la 104 quando ho fatto la richiesta abbiamo fatto tramite l'ospedale perché lui era ancora ricoverato e sono venuti proprio dall'Inps un dottore esterno a volutare veramente la situazione di Manuel ecco è venuto un dottore dell'Inps si è venuto a parlare con il dottore e ovviamente a vedere se Manuel veramente aveva tutte quelle situazioni che nelle relazioni erano state fatte e dopo tre anni ho dovuto rifare la revisione che ho fatto l'anno scorso che sono andata proprio col bimbo con tutte le carte ospedaliere per rifare l'invalidità allora le aziende a volte si rivolgono alle agenzie di investigazione quando hanno il sospetto che qualcuno ci stia marciando Giuseppe Lavenia che saluto è inviato dal Tg1 ecco il titolare di un'agenzia di investigazioni giusto Giuseppe? Sì qui siamo in una di quelle sale da dove si da la caccia ai cosiddetti furbetti i furbetti della 104 Elena è una dossier manager che cosa sta facendo? Stiamo svolgendo un'attività su un dipendente che ha chiesto di fruire di un permesso 104 noi siamo sul campo con le squadre che io sto coordinando per documentare quale tipo di attività questo dipendente vada a svolgere quindi se usufruisce correttamente i permessi 104 se invece in questo Avete una squadra lì che stanno controllando se realmente sta andando in casa di questo parente di cui deve prendersi cura o meno Esatto confermo E perché qui si da la caccia ai furbetti vedete lo fa Elena lo fanno gli altri in questa postazione siamo nelle sale operative di questa società che si chiama Axerta e Vincenzo Francese è l'amministratore delegato chi si rivolge a voi e soprattutto quello che si fa qui il pedinamento il controllo è tutto legale? Sì sicuramente tutto legale tutto compliance c'è rispetto della privacy di tutto quello che serve perché l'obiettivo finale della nostra attività è quello di fornire poi le prove Ecco, questo è un dossier che voi consegnate ai titolari d'azienda che vogliono sapere che cosa fanno i dipendenti che soffruiscono di permessi di 104 che cosa c'è dentro il dossier? All'interno del dossier chiaramente ci sono tutti gli attivi di indagine che abbiamo svolto e che proveranno che il dipendente non stava svolgendo quello che avrebbe dovuto fare per essere congruo con il permesso che ha preso Se controllate se il dipendente accudisce realmente il parente oppure va dove? Dove l'avete trovato? Esattamente tutto quello che dovrebbe fare è quello di accudire e quindi avere e svolgere tutte le attività necessarie che concure a quel tipo di permesso quindi accudire il parente E questo dossier può portare a un licenziamento? Sì in ultima razio sì alla fine di un procedimento disciplinare che tipicamente l'azienda intraprende si può arrivare fino al licenziamento Ecco qui dentro chiaramente lo possiamo mostrare ci sono foto e ci sono una serie di sequenze con orari che poi vengono consegnati per attestare che ne so che un dipendente che doveva prendersi cura di un parente malato era per esempio? Abbiamo visto di tutto abbiamo visto anche ad esempio un 104 un permesso in 104 doveva assistere un invalido invece con questo invalido ci giocava a calcio Cioè andavano a giocare a calcetto? Sì insieme quindi anche con l'invalido abbiamo trovato una doppia Marco Viene da fare la battuta ma bisogna essere invalido è vero o falso perché poi c'è pure questo Guardate questa foto Guardate questa foto dei carabinieri di Messina C'è una signora che sta chattando sta chattando naturalmente il viso oscurato e questa signora ha una pezione di invalidità in quanto non vedente e che stava chattando La 104 è una legge sacrosanta è una legge che aiuta chi effettivamente ha bisogno gli invalidi a casa le cose che appunto abbiamo discusso e quindi va difesa ma come la si dipende una legge così importante? E beh bisogna fare in modo che non ci siano altri che la vogliono appossare come la fossano perché vede Marco pensano alcuni che facendo i furbetti della 104 ma sì tanto truffo lo Stato tanto truffo l'azienda prendo in giro il mio datore di lavoro ma chi se ne prego? No! Quello che questi comportamenti portano via risorse a chi effettivamente ha bisogno alle persone che più devono avere bisogno di questa legge perché poi questa legge costa costa miliardi e allora se si arriva al punto che si portano via tante risorse perché appunto si fa il furbetto della 104 si tagliano i fondi e a chi ritagliano i fondi? A tre filetti? No! Lo tagliano alla signora che ha a casa un vero problema questo è una cosa che va assolutamente superata drasticamente anche con sanzioni Tipone che vantaggi dà la 104? Allora la prima cosa che bisogna chiarire è che per beneficiare della 104 non bisogna pagare nulla cioè se uno ha una particolare patologia fa la richiesta all'Inps l'Inps con una commissione mista verificherà se quella persona ha diritto o meno ad ottenere questa 104 Vantaggi? I vantaggi sono molteplici sia da un punto di vista agevolativo che per quanto riguarda agevolazione di tipo fiscale la cosa più vantaggiosa è che se io assisto una persona che beneficia della 104 posso beneficiare dei permessi di lavoro irretribuiti non vado a lavorare e vengo pagato lo stesso inoltre se sono un lavoratore dipendente non posso essere trasferito in altra sede se non ho il consenso da parte della persona che sto assistendo quindi già da questo punto di vista vi sono agevolazioni importanti poi altri vantaggi sono in primis ho la possibilità di acquistare un'autovettura risparmiando il 18% perché anziché pagare l'IVA al 22% pago l'IVA soltanto al 4% non pago il bollo auto ho diritto chiaramente a un posteggio per disabili per posteggiare la mia autovettura nei passaggi di proprietà non pago nessun tipo di imposta in caso di successione nel momento in cui il beneficiario è una persona che beneficia della 104 la mia soglia di esenzione passa da un milione a un milione e mezzo ossia non pagherò imposta di successione fino ad un milione e mezzo senza parlare che se vado ad acquistare un'autovettura sull'autovettura oltre a pagare il 4% di IVA recupero il 19% di quanto speso quindi pagano in meno a livello di imposte quindi è importante fare delle verifiche è una legge di grande civiltà come dice Trefiletti è una legge che va difesa e va difesa anche da chi ne abusa esatto e bisogna anche licenziare qualcuno se ne abusano si licenziano queste persone che abusano e portano via dei diritti ai cittadini che hanno bisogno allora Antonella mamma di Andrea vent'anni non riesce ad assistere suo figlio perché? Giuseppe Lavenia queste persone abusando hanno sicuramente fatto un torto e hanno tolto a me madre docente che deve assistere a un figlio disabile grave mi hanno tolto la possibilità di poter restare accanto a mio figlio a poterlo accudire 24 ore su 24 il figlio di Antonella Zammito è affetto da una malattia neurodegenerativa si chiama Andrea a vent'anni per prendersene cura ha chiesto di poter insegnare nella città dove vive ma i finti invalidi e i loro parenti l'hanno scavalcata in graduatoria così loro hanno ottenuto il trasferimento mentre lei per insegnare dovrebbe percorrere 300 km al giorno significa che io ogni giorno sono posta di fronte ad una scelta se accudire mio figlio o andare a lavorare e quindi abbandonarlo la rabbia di una mamma che lotta per avere riconosciuto un diritto sancito dalla legge 104 una legge di civiltà che tutela portatori di handicap e anziani norme sacrosante profanate da truffe e raggiri ai danni dei più deboli io inizio alle 6 del mattino con Andrea io lo devo lavare lo devo vestire devo somministrare i primi farmaci della giornata devo alzarlo dal letto metterlo in carrozzina devo anche liberare le vie respiratorie per evitare eventuali crisi Antonella oggi riesce a prendersi cura del figlio grazie ad un approvedimento straordinario dell'ufficio scolastico regionale ma dal prossimo anno potrebbe non bastare chiede più controlli Antonella non possiamo lasciare i nostri figli serve una norma precisa che ci consenta di prendercene cura sempre io penso che non dovrebbe non si dovrebbe abusare di una legge nobile la legge è stata creata per tutelare e prestare attenzione alle situazioni reali di disabilità e ogni abuso deve essere sicuramente punito ma penso che in Italia bisogna prima approvare delle leggi che puniscano seriamente chi abusa di certe situazioni ma anche le commissioni ha molto ragione Barbara ma anche le commissioni Marco scusi ma anche le commissioni che danno queste autorizzazioni ma come è possibile che poi escano tutte queste cose e allora anche questi devono essere sanzionati non è possibile si porta via risorse a chi effettivamente ne ha bisogno bisogna che i cittadini abbiano questa consapevolezza e le commissioni che hanno ancora più responsabilità lì bisogna veramente sanzionare in maniera molto determinata Barbara sono pienamente d'accordo anche perché io quando sono andata a fare la revisione avevo tre medici davanti quindi mi chiedo com'è possibile che tutte queste cose succedano per i medici che hanno osservato che hanno visto che hanno visitato si basano anche su della documentazione cartacea perché non è che effettuano una visita a tutti gli effetti quindi a monte chi magari ha rilasciato delle certificazioni che poi non attestano l'effettiva patologia quindi questo è quello che rimango scioccato su questo argomento appunto perché guardano il tutto quindi oltre i medici ci sono altri medici dietro per poter arrivare ad avere la 104 ad avere le invalidità quindi c'è un giro dietro che lascia senza parole come dice come dice Pimpone come mai come mai tutte queste certificazioni questa è la domanda allora però Alessandro Pirozzi con l'avvocato difensore di una persona che è stata licenziata giusto Alessandro? ciao meno male si Marco buon pomeriggio sono in compagnia dell'avvocato Tarlao qui siamo a Gorizia ci sono 14 indagati per truffa ai danni di ente pubblico e attestazione di false presenze lei difende una persona che è stata anche licenziata perché questa inchiesta parte due anni fa e ha due momenti due momenti che portano appunto all'interdizione di sei soggetti e successivamente l'amministrazione li licenzia e difende anche altre 5 7 8 persone che pardon altre 5 persone che invece hanno una posizione differente rispetto alla persona licenziata ecco qual è lo stato d'animo? come pensa di portare avanti la sua difesa? allora per quanto riguarda la persona licenziata oltre al procedimento penale che ovviamente è in corso abbiamo anche presentato e depositato un ricorso in materia di lavoro abbiamo una prima udienza all'8 maggio nella quale il giudice dovrebbe decidere se reintegrarlo in servizio o mantenere il provvedimento di licenziamento perché ricordiamo queste persone in diverse posizioni c'era chi dopo aver beggiato si recava al bar a fare shopping chi andava oltre i confine e andava ai centri commerciali lei appunto difende sia questa persona licenziata e anche persone che hanno posizioni diverse per quanto riguarda la persona licenziata e devo specificare che in realtà c'erano dei gravi motivi personali che sicuramente non giustificavano dal punto di vista amministrativo all'uscita ma la giustificavano diciamo dal punto di vista morale e proprio su questi motivi morali diciamo avendo tra il resto anche risarcito il danno creato all'amministrazione che poi non era tale perché stiamo parlando di 1300 euro versati a titolo di risarcimento noi chiediamo al giudice di lavoro che voglia annullare questa sanzione perché in realtà la sanzione adeguata poteva essere un'altra meno grave che poteva essere la sospensione per un determinato periodo Marco Sì no questo per dire insomma bisogna sempre valutare poi caso per caso ne arrivano altri di casi alcuni che usufruivano alcuni cosiddetti furbetti pare andassero in enoteca a degustare il vino Allora Marco ma scusate l'avvocato fa il suo mestiere e lo deve fare bene deve vedere se ci sono effettivamente le cose eccetera eccetera ma io dico una cosa semplicissima se tu non hai voglia di lavorare e fai quello che fai con il cartellino te ne vai d'altra parte vattene a casa lascia il posto a un giovane disoccupato questo è il punto vai via poi in questo periodo in questo periodo che il lavoro non c'è è veramente vergognoso con tutti questi giorni avevo da chiudere questo spazio ringraziando Pirozzi la legna e tutti gli altri però ricordando che Barbara Nevischi insomma una mano per Manuel c'è questa pagina facebook andatela a visitare perché la storia di Manuel è una storia che merita di essere letta di essere letta grazie e Barbara è una persona che sta facendo grandi cose per il suo figlio spero tantissimo che queste persone che usano la legge in maniera sbagliata non lo cioè la finiscano di farlo perché comunque noi mamme che viviamo questa situazione cioè pagheremmo oro per non dover usufruire della 104 sentire queste cose ti lascio veramente senza parole bene grazie Barbara grazie Gianluca che ti impone grazie Francesca